ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nostro nuovo video io sono daniel sorry me io sono davide e oggi siamo su minecraft pocket edition survival modalità survival ok io posso sono invincibile per c'è invincibile io sono protetto da capitana america che è questo tipo qua che sono io che bello che mi chiamo steve steve rogers capitano io mi io sono solito steve allora raga se facciamo qualche altro a puntata di minecraft cercheremo di proseguirlo proseguirlo e magari nello schermo tagliarlo in due vedere la parte dove gioco io dove gioca davide tanto capitano america invece di far parte degli avengers va a fare il boscaiolo zitto e lavora va a taglia il legno che ci serve si manucola sopra me abbiamo ricominciato proprio da tutto c'è ricominciato abbiamo cominciato da tutto non sono capace vieni qua allora ti do gli incarichi te tagli tutto il legno che puoi prendi tutto il legno che puoi io taglio intanto non riesco a saltare io mi metto qua che inizio a craftare va bene tu tu crafta io gioco guarda 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 che questo è guarda bellissimo best game ever quasi lo consiglio a tutti ma a tutti 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 perché c'è sia la modalità survival sia quella creativa dove puoi cazzeggiare puoi creare la tua casa creare tutto quello che vuoi ma tu hai craftato cosa? allora aspetta ora vado a prendere il banco di lavoro no? aspetta mi serve mi servono blocchi di legno ce l'hai te qualche blocco di legno? si tre tieni premuto sui blocchi di legno e passami li va che inizio a craftare le spada o piccone o cose così dai io tu li passati si dai inizio continuo io inizio a tagliare gli alberi inizio allora cambio mestiere da panettiere andiamo al boscaioli prendi qua che ti passo l'ascia così almeno così tagli più veloce va presa? non ho preso un cazzo no io te l'ho appena lanciata prova a vedere dietro dietro di te ecco aspetta che te la ripasso ok presa? si aspetta sposto le rete dei coglioni e dov'è? il cazzo l'hai presa a te adesso era nel buco lì la sei scemo no se te che continui a prenderla ecco no ora è sotto di te ora è sotto di me eeeh vai ora lavora lavora schiavo ehi si schiavo lavora perché prima che arrivi la notte perché almeno dobbiamo crearci un mini rifugio io raga in questo gioco sono bravo nella modalità creativa come nei lego ecco come tutti dai raga ah che bravo che costruisca i picconi poi i rumori degli zombie dei maiali tutti sono bellissimi fa più paura di fa più paura a un maiale che uno zombie e poi la faccia del maiale è bellissima è proprio un porco si è c'ha una faccia così eccolo qua chi un maiale? si pig aspetta che ti aiuto a ucciderlo io i kill you pig pig si dice ne? si ma tanto sto un babbo vieni qua oh taglia legna dai che ci serve? sono impegnato a uccidere maiali si l'ho ucciso prende pure le punti abilità lui no? si si ma se io tipo ti faccio così ti uccido? per caso ah vaffanculo oh tu mi fai andare no sto morendo io devi salire basta tu sei vai a lavorare con gli Avengers coglione cazzo scappi no dai però niente stronzate no no dai sir no ma io sono di cappato a muovermi raga sono di cappato tu mi avevi dato l'incarico di tagliare gli alberi io sono sulla spiaggia sto tagliando io infatti il legno eh taglia taglia anche te aspetta che te raggiungo se vuoi chiamo Iron Man sento poi più bravo capitano america di Iron Man dai poche storie oh vado no scusa scusa questa volta non l'ho fatto apposta via un attimo devo hai tagliato? ti crafto allora ma se io tipo taglio i cespugli ci creiamo una casa di cespugli ehm per cazzo sete ah sei qua prendi qua che ti sto craftando un po' di roba vieni qua boh io sono qua ti lancio giù la roba vai lancia giù aspetta eh lancimi giù un'aricola allora ti ho lanciato il pincone e poi la spada aspetta eh ok presa si e poi aspetta un attimo oppure la pala va bene passa presa se per caso tu muori io devo soppellirti eh tipo circa ora cerchiamo un bel punto dove costruire non sulla sabbia che altrimenti ci cade in testa giusto qua sulla sabbia no non sulla sabbia qua qua un piccolo po' no beh no per inizio no ho detto una stronzata facciamo una piccola grotterella all'inizio dentro la sabbia no che ci crolla in testa qua eh io cazzo appena detto io qua vai inizio a piccozzare va si a piccozzare io inizio a creare tipo le fondamenta un qualcosa del genere no te fai due buchi così guarda come faccio io arrivo si si guarda qua che proagine si ma io sono handicappato a a a giocare in ste robe mannaggia legno no ma chi è che aveva bucato per terra si bucato dove? dietro di te? no no niente dietro di te ho bucato io eh eravamo capito sei stupido ma io non ho ancora per capito devo fare le fondamenta oppure oppure no oppure non ti serve un po' no devi bucare qua come faccio facendo io il muro eh si ma tu mi dici vieni qua a bucare e dopo ti ritrovi in culo ai lupi si ma adesso è un babbo ti metti davanti e dove devo stare dietro? eh 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 si e si dove cazzo scavo? dietro di te? no ok vai avanti te questo babbo non riesce a scavare no ah ma io devo usare piccone cazzo solo ah no ma sono con l'ascia si con l'ascia a rompere la pietra oh bella abbiamo trovato il carbone carbone anche io levati un attimo da là che devo piccozzare sotto per piccozzare sotto? ma tu devi se piccozzare che carbone serve per fare le torce? hai sentito che bel rumore? ho creato tipo un buco attorno a te oppure no? no è stato io a creare il buco attorno a me è la signorante oh via un attimo che devo fammi oh stavo piazzando giù il blocco no se tante canti si è messo davanti dai ok fammi creare le cose e dopo io dove cazzo passo? eh? tanto c'è un altro buco eh dove passare si dove? dove è che sono? c'è un cane brutto guarda qua le torce si aspetta c'è una pecora abbiamo la luce io ho la pecora io sto cacciando una pecora tu sei un bavo non è un cane bruttana vieni qua che ti faccio conoscere è baggata la testa nell'albero non è una pecora un cane non toccalo che ti uccide figlio di puttana figlio di puttana no ma avrai la madre infame oh vieni qua capitano America che sono inseguito da cani tre ti stai seguendo sei morto no ma dai oh ma che se mi inseguono pure a me veramente te le prendi eh ma non pensai che i cani sono così figli di puttana ho preso i tuoi materiali io faccio rinaci eh sì dovevo andare eh ah ecco ti vedo cioè vedo il tuo nome scritto sulla montagna e vaffanculo dirmelo prima che i cani ti rompono i coglioni così te l'ho appena detto aspetta io sto arrivando inizio a creare la porta sì no vaffanculo non l'ho fatto apposta dai cane di merda ma dai dai ho sbagliato ancora sono tre come cazzo ha destrato il cane dai è bello che mi esce il lupo ha ucciso Steve è bello il lupo ha ucciso Steve oh entra dentro in casa ma che arrivano gli zombie è giusto oltre i cani pure gli zombie a chi pensare i coglioni in casa tu non hai fatto un cazzo io sono stato a cacciare i cani guarda qua sono stato a cacciare i cani e tu non hai fatto cazzo hai creato la casa poi hai fatto qualcosa eh no guarda gli ho chiudito pure le porte oppure no ma se ti levi mentre sto piccozzando che poi ti arriva in testa ma se ti levi che al posto mi vai a cacciare scusa vai a cacciare i lupi ma se ti vengono a cacciare i lupi ma io l'ho fatta apposta la prima volta possiamo dire anche oh 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 rompi tutta la roccia che c'è intorno a mani nude aspetta ma sono coglione sei passato davanti a me adesso devo ricominciare ti ho passato il piccone prendilo esito l'hai ripreso ma prendilo veloce e tu che apparisce cazzo fai giù ma se te lo passo prendilo ora inizia a piccozzare mi hai dato un piccone dalla cinazza è metà è metà rotto il segno verde ci sono ancora i cani figli di putara che abbaiano ho trovato un puntino giallo la piante di ridere con il sucista cazzo di casa la piccata del cinazza tu sei da nel cervello come te posso andare a fare il culo ai cani guarda che col piccone vi faccio vedere chi comanda qua oh vieni qua che te ne do uno di pietra cosa? di piccone cazzo è dietro di te è dietro di pietra uno di pietra poi di legno mamma è di pietra che figata che figata ma che bello guarda qua che pro che sono ma raga veramente tutto io sto facendo il bello è che abbiamo in casa un giacimento di carbone ma se ti levi dai coglioni te si se magari te che il mio Steve entra nel tuo capitano america cosa hai appena detto non so se ti rendi conto ho detto che lasciamo stare meglio meglio che vado con i cani allora ma io sto scavando a me sta laggando ho scavato all'interno della montagna ma è giusto oppure no Steve ha abbandonato la partita nooo disconnesso dal server va bene raga disconnesso dal server e se poi adesso Minecraft non risponde poi cosa esce Steve è morto va bene raga spero che questo video vi sia piaciuto continueremo Minecraft perchè oggi è stata una cosa epica perchè il mio Steve è c'è un cane è bellissimo guardate il mio Steve sembra bello ma dentro la testa c'è dentro un cazzo per me va bene raga commentate mettete mi piace scrivetevi e adesso sai che inizio a odiare i cani ma io non ma è vero seriamente non pensavo che erano così figli di puttane in Minecraft va bene un maiale va bene può cagarti addosso ma un cane non pensavo che il miglior amico dell'uomo te vaffanculo migliore amico dell'uomo va bene raga concludiamo qua questo video e niente spero che vi sia piaciuto e spero attenti ai cani fate attenti ai cani leggete i cartelli bella a tutti ragazzi saluta male saluta se te sei un cane bella raga bella ciao ciao ciao